Informazioni accurate e in tempo reale sono un must nel mondo dei trasporti. Che tu debba elaborare ordini di trasporto, documentare le attività dell'autista o comunicare con tutte le parti coinvolte, con le app FleetXPS di Trimble diventa un gioco da ragazzi. Funzionando su dispositivi Android, le app FleetXPS possono essere utilizzate sia per la tua flotta che per le flotte dei vettori terzi. I flussi di lavoro sono impostati per soddisfare le vostre specifiche esigenze e possono essere modificati nel tempo. Grazie al sistema di gestione documentale è possibile consultare in qualsiasi momento le informazioni rilevanti per l'autista, quali i documenti dell'ordine e di trasporto, la gestione danni, controlli di qualità e procedure per la sicurezza. Aggiungete a questo la rubrica integrata, gli strumenti di pianificazione e navigazione, la soluzione cam scanner ed il sistema di messaggistica e avrete uno strumento in grado di generare risposte a qualsiasi domanda relativa al trasporto. In combinazione con altri prodotti e soluzioni Trimble, le app FleetXPS possono fare ancora di più. Curioso? Contattaci e richiedi una demo.